Il processo di definizione del piano di riordino ospedaliero è un passaggio in cui ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Costruire dunque con i sindacati una permanente unità di controllo e verifica in maniera sistematica, creando un flusso senza interruzione. Parole, per certi versi, condivisibili, ma che poi devono trovare un riscontro concreto in materia di efficienza e di qualità dei servizi. Finora, in quella che in Puglia è considerata un'impresa titanica, tutti hanno fallito, qualcuno anche con qualche lancio di uova. Nella realtà dei fatti l'interlocuzione con i sindacati non è andata nel migliore dei modi, perché il piano, così com'è, non convince le organizzazioni sindacali, poiché, a loro avviso, rischia di indebolire la sanità pubblica aumentando la mobilità passiva. E' questa la sintesi dell'incontro tenutosi ieri al Policlinico sul tema del riordino ospedaliero. I segretari, in un documento congiunto, hanno indicato le criticità esistenti sui posti letto. Prevedere 15 ospedali di base e 9 di primo livello non risponde a criteri oggettivi, poiché si determinerebbe in tal modo una riduzione dei posti letto che non troverebbe allocazioni in altri ospedali. Emiliano continua ad elogiare il metodo della concertazione. I sindacati plaudono, ma permane lo scetticismo e si dicono pronti ad alzare le barricate. In sintesi, no all'applicazione di una logica ragioneristica. Il piano, così com'è, non va e se non accetteranno la proposta congiunta, le organizzazioni sindacali si dicono pronte alla protesta. Nel dettaglio alcune riflessioni sugli ospedali che potrebbero salvarsi dai tagli. Uno su tutti è il Fallacara di Trigiano, fermo restando che la struttura di Trigiano diventerà il più grosso centro risvegli del sud. Dicono dalla Presidenza, si sta cercando di capire se è possibile lasciare aperti alcuni reparti. La riflessione non è tanto sui bisogni dell'ospedale trigianese in sé, ma su quanto il Fallacara aperto possa servire al divenere con cui è collegato. Il tempo per le modifiche scade domenica prossima. Entro quella data la regione metterà a punto la delibera. Nel frattempo arrivano denunce e segnalazioni. La prima riguarda il policlinico. Al padiglione Asclepios, sperpero di danaro pubblico, secondo la denuncia di Luigi Cipriani, del gruppo indipendente Libertà. Al semi-interrato del padiglione, collegato alla neuro-riabilitazione, esiste una piscina per disabili, mai entrata in funzione, diventata una discarica di rifiuti. Ciliegina sulla torta, l'ospedale di Canosa, che rientra tra i nuovi ospedali da chiudere. Domenica si terrà l'inaugurazione delle nuove strutture, tutte nuove di zecca e messe a norma, in cui saranno trasferiti il pronto soccorso ai reparti di medicina, geriatria e lungodegenza. Un taglio del nastro che potrebbe rivelarsi perfettamente inutili e soldi pubblici mandati allo sperpero.